ciao ragazzi e ben ritrovati a questa nuova lezione del corso di after effects proseguiamo l'esplorazione nel mondo delle espressioni andandone a vedere una di quelle più utilizzate nella motion graphics ovvero il loop questa stringa che andremo a utilizzare consente di copiare e ripetere automaticamente le animazioni realizzate con fotogrammi chiave e la sua sintassi cambia in base al comando che vogliamo applicare ma inizierà sempre con la parola loop in o loop out con il primo carattere della seconda parola in maiuscolo seguito da una parentesi tonda e due virgolette aperte nella quale inserire una delle quattro modalità di ripetizione che sono cycle ping pong offset e continue seguiti dalle doppie virgolette la parentesi tonda di chiusura e in alcuni casi può includere in maniera facoltativa un'estensione costituita da un numero per specificare i fotogrammi chiave posizionato prima della chiusura con la parentesi separato da uno spazio e una virgola a questo punto andiamo a vedere come utilizzare le quattro modalità e torniamo sulla nostra composizione spaziale con il nostro razzo dove questa volta sulla proprietà di rotazione ho un'animazione creata con fotogrammi chiave che gli permette di compiere un giro attorno al pianeta e che vedete inizia da 4 secondi e termina a 8 se ora volesse ripetere questa animazione all'infinito il metodo meccanico sarebbe quello di selezionare tutti i fotogrammi copiarli e incollarli dopo l'ultimo e ripetere questa operazione per tutto il tempo rimasto davvero poco funzionale e senza la possibilità di creare eventuali modifiche nel tempo quindi usiamo un'espressione che farà il lavoro al posto nostro automatizzando questo processo entriamo nell'editor delle espressioni della proprietà di rotazione su cui sono presenti i fotogrammi chiave e nella stringa digito loop out e sfrutto i suggerimenti che posso scorrere con le frecce direzionali e selezionare quella che mi serve ora confermo l'espressione senza inserire nulla all'interno delle parentesi e se mando in riproduzione a 4 secondi il razzo inizierà la sua rotazione e dopo l'ultimo fotogramma continuerà a ripetere all'infinito questa animazione fino alla fine della clip quando usiamo il termine loop out che è anche quello più utilizzato stiamo specificando all'espressione di creare questa ripetizione solo dopo l'ultimo fotogramma inserito se utilizzassimo il termine loop in che andiamo a sostituire nella stringa di testo allora la nostra animazione si ripeterebbe solo davanti al primo fotogramma dell'animazione e si interromperebbe dopo l'ultimo bene vediamo adesso le varie modalità di loop che abbiamo a disposizione partendo da quella chiamata cycle quindi digito nella stringa di testo loop out usando la scorciatoia e all'interno delle parentesi apro le virgolette che mi daranno i suggerimenti sulle modalità che vogliamo utilizzare e andiamo a selezionare quella chiamata cycle questo metodo non fa altro che creare un ciclo continuo a partire dall'ultimo fotogramma chiave e in pratica fa la stessa cosa del solo testo loop out senza specifiche tra le due parentesi quindi qual è la differenza per cui dovrei usare questa modalità il motivo si trova qualora volessimo creare un'estensione che ci permette di specificare su quanti fotogrammi si debba ripetere il movimento all'infinito per esempio rientriamo all'interno della stringa e dopo le virgolette di chiusura aggiungiamo una virgola diamo uno spazio e mettiamo il numero due che specifica appunto il numero dei fotogrammi che devono essere utilizzati in questa ripetizione continua confermiamo l'espressione e se mandiamo in riproduzione quando il razzo avrà terminato l'animazione a otto secondi questa continuerà a ripetere il movimento dei soli due fotogrammi finali se inseriamo un valore di 3 interpolerà e ripeterà solo gli ultimi tre fotogrammi dell'animazione e così via bene proseguiamo con la modalità chiamata ping pong come il nome suggerisce questo metodo non fa altro che invertire l'animazione dalla fine all'inizio poi dall'inizio alla fine ancora dalla fine all'inizio e così via per tutta la durata della composizione entriamo quindi sull'editor e andiamo a sostituire la parola cycle con ping pong e velocizziamo il tutto grazie ai suggerimenti ed eliminiamo anche l'estensione che avevamo inserito precedentemente confermiamo e mandiamo in riproduzione e quando la linea del tempo raggiunge l'ultimo fotogramma chiave l'animazione prosegue creando questo movimento continuo indietro e poi avanti ancora indietro e così via in pratica rimbalza all'infinito dall'ultimo fotogramma al primo e dal primo all'ultimo ripetendo questo movimento avanti indietro per tutta la durata del tempo fino alla fine della clip anche qui possiamo influenzare questa ripetizione con un'estensione che è la stessa usata precedentemente è costituita da una virgola uno spazio e il numero dei fotogrammi che vogliamo vengano interessati da questo movimento in avanti e indietro mettiamo anche qua il valore di 2 e se mandiamo in riproduzione dopo l'ultimo fotogramma l'animazione ripeterà il movimento solo tra gli ultimi due fotogrammi chiave finali bene vediamo ora il terzo metodo chiamato offset questa modalità è identica a quella chiamata cycle con una sola differenza che consiste nell'andare a modificare il valore dell'ultimo fotogramma dell'animazione digitiamo la parola offset all'interno della stringa ed eliminiamo l'estensione precedente nel nostro caso avendo un'espressione sulla rotazione modificando il parametro dell'ultimo fotogramma cambieremo il numero di rotazioni e quindi lo portiamo con un valore di 2 e se mandiamo in riproduzione nel passaggio tra gli ultimi due fotogrammi l'interpolazione aumenterà la velocità per farlo arrivare a destinazione con un giro aggiuntivo ottenendo così questa accelerazione alla fine dell'animazione che verrà così ripetuta nel tempo se invece avessimo la stessa espressione su altre proprietà animate contemporaneamente come la scala o l'opacità o la posizione che vediamo in questo esempio modificando il valore x sull'ultimo fotogramma spostando il razzo un po' verso l'esterno del pianeta e mandiamo in riproduzione alla fine dell'animazione il razzo si troverà più esterno e questo scostamento influenzerà tutte le ripetizioni successive creando un loop che cambiando la sua posizione iniziale sposta il suo punto di partenza portando poco alla volta il nostro oggetto fuori dal monitor vedete come a ogni giro il punto di partenza del loop si trova più esterno dal punto di partenza di origine precedente creando così questo scostamento nell'animazione benissimo vediamo adesso l'ultima modalità ovvero quella chiamata continue che ci permette di mantenere un valore utilizzando la velocità e direzione esatta dell'ultimo fotogramma dell'animazione e anche se questa modalità non è un vero e proprio loop vediamo come funziona e in questa composizione abbiamo la rotazione del razzo attorno al pianeta questa volta però creata con la proprietà di posizione dove ho orientato il razzo al tracciato che abbiamo generato quindi entriamo nell'editor delle espressioni e scriviamo loop out aperta parentesi virgolette continue virgolette chiusa parentesi e se ora trasciniamo la linea temporale vedremo la corretta animazione su tutti i fotogrammi inseriti ma quando arriviamo alla fine il razzo proseguirà all'infinito mantenendo velocità e direzione dell'ultimo fotogramma chiave e se eliminiamo anche alcuni dei fotogrammi dell'animazione l'ultimo rimasto in sequenza indicherà sempre la direzione e velocità che assumerà il nostro oggetto possiamo trovare queste espressioni che abbiamo visto in questa lezione all'interno dei predefiniti nella sezione property loop out e loop in con valori segnaposto da modificare con i metodi ed estensioni che abbiamo appena visto bene ragazzi anche per questa lezione è tutto e ci vediamo al prossimo episodio ciao